Inter! Amici del canale Gianluca Rossi TV, la quarta puntata di Pazza Inter, ospiti! Marcelo Zemaria, Paolo Tramezzani, ex Inter ed ex Tottenham, visto che c'è questa sera Milan Tottenham, e Spillo Altobelli. Ecco gli highlights della puntata. Milan Tottenham stasera, cioè il Milan a Londra, secondo te l'1-0 di San Siro può bastare? E poi c'è questo Bayern Paris Saint-Germain a Monaco, dove il Bayern ha vinto a Parigi, però insomma con i giocatori che ha il PSG non c'è mai da stare tranquillo. Ecco, come li vedi le partite di questa sera? Ma saranno partite belle, perché poi il Milan, anche il Milan, non è una squadra oggi facile da battere, semplice da battere, e io sono contento di questo per il campionato italiano, per il calcio italiano. Se supera il turno, se supera il turno l'Inter, se supera il turno Napoli, credo che per noi qui in Italia sarebbe una cosa fantastica. Non saranno partite facili, perché battere il Tottenham, o non perdere col Tottenham in Inghilterra, non è mai semplice, poi Conte conosce benissimo il calcio italiano, i giocatori italiani, come si gioca in Italia, credo che sarà una battaglia bella da vedere stasera. E poi il Bayern e il PSG, è una partita talmente aperta, come dicevi te, quei due che adesso rimane infortunati, ma non sono soltanto loro due, ma altri, quando decidono di accelerare diventano imparabili, diventano una squadra veramente devastante. Ma comunque è una squadra che lascia tante lacune, si è visto anche in campionato, che non è una squadra imbattibile, ma è una squadra che comunque fa paura. Quella sarà una possibile finale che, mettiamo tra virgolette, si sono ritrovati adesso. Quindi insomma, secondo te, il Milan comunque non parte spacciato, cioè alla fine l'1-0, perché lì è una bolgia in Inghilterra, poi tu insomma hai giocato un sacco di volte in Champions, cioè secondo te ha comunque le qualità per salvare, tra virgolette, la pelle? Perché con un pareggio passerebbe. Cioè ti aspetti che possa farcela? Ma secondo me sì, secondo me sì. Se è una squadra concentrata, se i giocatori del Milan decidono di giocare, perché poi c'è uno dei giocatori che hanno fatto finale di mondiale, i giocatori che hanno fatto semifinali di mondiale, i giocatori che sono veramente importanti, se loro si mettono a disposizione a fare quello che ci vuole in questo momento, una partita di tanto sacrificio, perché sarà una partita di tanto sacrificio, soprattutto dagli attaccanti del Milan, credo che il Milan possa far male stasera. Ripeto, non è semplice perché il Tottenham è una grande squadra, ha dei grandi giocatori che anche lì possono far male alla difesa del Milan, ma partendo già con un vantaggio, potendo giocare anche con un pareggio, credo che non è una cosa da buttare giù, buttare via. Senti, tornando a Porto Inter, ricordando quel magico Inter-Porto a San Siro con la tripletta di Adriano, con te in campo, con l'Inter che aveva tanti campioni, a tuo giudizio l'1-0 che ha raccolto l'Inter a San Siro può bastare al Dragao? Perché poi l'Inter, tutto sommato, a differenza di tutte le altre italiane, ha una buona storia, anche se è vecchia, devo dire, di 20 anni, però l'Inter forse è l'unica che ha una... rispetto insomma alle squadre italiane recentemente che sono andate tutte a casa. Cioè l'Inter comunque ha anche dalla sua una buona storia col Porto, cioè secondo te può farcela? Sì, addio, è stata una partita equilibratissima quella partita a San Siro. Io ci ero, non è stata una partita che l'Inter, se parliamo seriamente, non ha neanche meritato di vincere quella partita. Non è una partita da pareggio che il Porto non avrebbe rubato niente. Per andare più tranquillamente in Portogallo sarebbe dovuto avere un risultato un po' più elastico di quello che è stata la prima partita. Loro giocano bene, con Sessono sta facendo un lavoro fatto veramente bene lì, ma l'Inter è lo stesso discorso del Milan, secondo me. è una difesa molto concreta, è una difesa che sia in giornata difficile da battere. Ha degli attaccanti, non so poi chi giocherà nella prossima partita, ma anche loro. Ripeto, è una cosa che facevamo noi nell'epoca di Mancini, poi si è fatta anche con Mourinho, quando gli attaccanti facevano tanti sacrifici nella fase difensiva. e sappiamo che l'Inter è questo spirito di una squadra interista, una squadra che lotta tutto il tempo. Adriano, Cruz, Recoba, Martins, che si sacrificavano tantissimo. Poi arriva Milito e Toh, sono quelli lì che hanno fatto la storia del tripleto dell'Inter. Sono quelli lì che si sacrificavano tantissimo per un obiettivo ancora più grande del merito individuale, ma il gruppo che stava al di sopra di ogni cosa. Se l'Inter va a Porto con questa mentalità, con questa determinazione, ha sempre un vantaggio, il vantaggio del pareggio, che poi tanti dicono che non vale niente, ma è meglio avercelo che no. Sì, che il Milan ha tutto per poter fare una buona gara, e per quanto intendo buona gara, mi riferisco al fatto di passare il turno. Certo, poi anche pareggiare. Sente l'Inter? Il Milan ha fatto e non proseguire in questa competizione. Il Milan ha veramente tutto per andare a imporsi, secondo me, questa sera. E l'Inter ce l'ha un po' più dura, invece? L'Inter è un po' più dura, penso di sì, perché credo che il valore dell'avversario dell'Inter, soprattutto in casa, giocano, muovono la palla, ti spostano, ti fanno girare a vuoto, ti saltano sempre la prima pressione, ti giocano alle spalle, ti cambiano il campo di gioco, ti attaccano cercando sempre superiorità numerica, una squadra che gioca bene, che sanno tutti cosa devono fare. Si mettono tutti al servizio del compagno, è uno spirito veramente molto forte. Per l'Inter è un po' più complicata, però se devo pensare all'Inter nella sua versione migliore delle partite di Coppa, in Champions quest'anno che ha fatto, ma l'Inter è piaciuta tantissimo, sono convinto che possiamo sperare che tutte le squadre italiane possano arrivare ai quarti. Io penso che sono alla portata tutti e due, perché il Milan ha vinto 1-0 col Tottenham, quindi va a giocare fuori casa e ha due risultati su tre e ce la può fare. L'Inter ha vinto 1-0 col Porto, va a giocare fuori casa, l'Inter è una squadra anche che gioca bene in trasferta, la vedo più dura per l'Inter perché il Porto anche a Milano ha giocato una grande partita, magari è più squadra anche del Tottenham, quindi c'è da soffrire, ma ce la possiamo fare. Io mi auguro naturalmente che Spillo abbia ragione, soprattutto per quanto riguarda l'Inter, vabbè, ma io lo dico per prima, poi va bene il calcio italiano. Io spero proprio che il pronostico del passaggio del turno di Alessandro Spillo Altobelli si realizzi soprattutto per la metà che mi riguarda, voi naturalmente all'ascolto. Ha curiosito però quello che diceva Spillo che è sempre molto sincero e diretto nelle analisi che fa, non ci gira intorno, ha detto comunque l'Inter come Rosa non ha nulla da invidiare al Napoli e allora è il manico che fa la differenza, è l'allenatore tra Inter e Napoli, Inzaghi non è all'altezza di Spalletti? Allora possiamo dire che Spalletti oltre ad avere dei buoni giocatori ci mette anche del suo in questa squadra, ci mette del suo perché il Napoli poi assomiglia al carattere, alla personalità, a tutto del suo allenatore, no? Anche l'Inter, quindi dicendo Inzaghi riesce ad avere quel tot ma non va oltre. Non so se mi sono spiegato. No, ti sei spiegato fin troppo bene. Questi erano gli highlights della quarta puntata di Pazza Inter, ci risentiamo dopo le partite di Champions, Bayern, Paris Saint-Germain e soprattutto Tottenham-Milan. I N I T I I I I I Grazie.